Ci siamo passati tutti almeno una volta da quella stazione. Oggi è molto più grande di 40 anni fa. I treni ad alta velocità passano al fondo di un labirinto sotterraneo, ma il resto della stazione centrale di Bologna, i fabbricati giallo chiaro, l'atrio brulicante di persone, l'uscita su piazza medaglie d'oro, sono molto simili a come erano il 2 agosto del 1980. Quel 2 agosto era un sabato e non uno qualunque. Era il primo sabato di agosto, cioè il giorno in cui tanti, tantissimi, si mettevano in viaggio per le vacanze estive. Molto più di oggi l'Italia dell'80 era un'Italia fatta ancora di riti collettivi, di ferie di massa. Al mattino del 2 agosto i giornali parlavano del grande esodo. Code ai caselli dell'autostrada, ressa nelle stazioni. Come a Bologna, una stazione in cui siamo passati più o meno tutti, perché lo snodo ferroviario più importante d'Italia collega il nord-ovest, il nord-est, il centro, il sud. Da Bologna passa tutto prima o poi, 350 treni al giorno. Quel mattino, sabato 2 agosto del 1980, alla stazione centrale di Bologna c'è un'enormità di persone. C'è chi va e chi viene, chi parte e chi arriva, chi corre e chi aspetta. Le 9, le 9 e mezza, le 10. Ci sono John e Catherine, due studenti inglesi che hanno deciso di girare l'Europa zaino in spalla. Il signore Argeo, che era andato a trovare la mamma e doveva tornare a Bolzano, dove lavorava. Davide, 20 anni, che è di Verona e sta tornando a casa dopo qualche giorno di vacanza ad Ancona, dove abita la sorella. Maria Fresu e sua figlia Angela, di tre anni, in partenza per il lago di Garda. C'è il signor Antonio, 86 anni, un mezzadro in pensione che è andato all'autostazione per informarsi sugli orari delle corriere. Antonio ha perso un autobus per un soffio e sta aspettando sotto il portico che passi quello successivo. C'è chi in stazione ci lavora, Mirella, che da qualche tempo ha cambiato sede ma è tornata lì per coprire i turni di chi è andato in vacanza. Nilla, che ha 25 anni, sta per sposarsi e ha già scelto la cucina per la sua nuova casa. E poi Giuseppe, Fausto, Sergio, Irene, Silvana, Rosina, Katia. C'è Iwau Sekiguchi, un ragazzo di 20 anni di Tokyo appassionato di arte e di cultura italiana. Sul suo diario di viaggio quel giorno appunta 2 agosto. Sono alla stazione di Bologna, telefono a Teresa ma non c'è. Decido quindi di andare a Venezia. Prendo il treno che parte alle 11 e 11. Ho preso un cestino da viaggio che ho pagato 5.000 lire. Dentro c'è carne, uova, patate, pane e vino. Mentre scrivo sto mangiando. C'è Rossella, ha 19 anni e deve tornare a Prarolo, in Piemonte. E con un'amica, Arianna, per far star tranquilli i genitori, hanno deciso di non tornare in moto ma in treno perché è più sicuro. Fa caldo, caldissimo, quel 2 agosto 1980. Dopo una lunga attesa al binario 4, Rossella dice a Arianna che vuole andare a prendere qualcosa da bere. Le 10 e 25. Un sibilo, un boato gigantesco. L'onda d'urto che frantuma i vetri, scaraventa persone e oggetti, abbatte muri. La sala d'aspetto di seconda classe diventa una palla di fiamme e fumo. L'ala ovest della stazione centrale di Bologna si accartoccia su se stessa. Il piano sopra crolla su quello sotto. La deflagrazione è così forte che colpisce anche il treno fermo sul primo binario, l'Adria Express, che d'Ancona porta a Basilea. E' il parcheggio dei taxi sul piazzale davanti. Tra volte dall'esplosione, colpite da pezzi di stazione che volano o cadono, sepolte sotto le macerie, muoiono 85 persone. I feriti sono 200. Muoiono dalla prima all'ultima tutte le persone che abbiamo citato poco fa, tranne Arianna, l'amica di Rossella, che per caso o per destino era rimasta in attesa al binario 4, anziché andare al bar a prendere qualcosa da bere. Comincia così la puntata di questo si fa l'Italia sulla strage di Bologna e comincia così anche questa questa nostra serata. Comincia, diciamo, no, Lollo, nella puntata con la morte e la devastazione che arrivano in un luogo di vita, com'è una stazione, com'è la stazione di Bologna, che è così ancora oggi, è sostanzialmente uguale da fuori. Dicevamo prima che ci siamo davvero passati tutti, io tra l'altro stamattina, l'ultima volta, e in un certo senso nel nostro passarci magari ci pensiamo a quello che è accaduto il 2 agosto 1980. Un'esplosione che all'inizio disorienta. La reazione immediata ovviamente è dare assistenza, prestare aiuto alle persone che sono rimaste sepolte sotto le macerie. Non si capisce che cosa è accaduto se non che qualcosa di molto grave è successo, Lollo. E qui vediamo alcune immagini che ci raccontano esattamente questo. Però quello che ci ha raccontato, l'abbiamo capito, lo percepivamo, ma quello che ci ha raccontato Carlo Lucarelli, che è l'ospite di questa puntata, ci ha fatto capire perché Bologna è la strage di tutti, perché c'è stato veramente qualcosa di particolare nella città. Lui racconta che tutta la città si è riversata in piazza Medaglie d'Oro e tutti hanno cominciato a scavare tra le macerie. In qualche modo quella generazione, la generazione successiva di Bolognesi è segnata da quel ricordo anche se non lo racconta. Lui racconta che di aver scoperto che un suo zio era a scavare nelle macerie della stazione di Bologna e l'ha scoperto solo dopo molto tempo dopo la sua morte e che probabilmente ha tirato fuori dalle macerie un bambino, Marco, che è diventato il suo miglior amico ed è incredibile. Poi quando uno va dentro, io in questi giorni un po' ripassando e ripassando su questa storia ci sono dei momenti che sono di un'emozione, di una commozione fortissima. Ad esempio quello dell'autobus 37. A me è stato qualcosa che mi è rimasta questa immagine, perché a un certo punto fuori dalla stazione si accorgono che le ambulanze non bastano più per tutti. Ci sono talmente tanti morti e talmente feriti che tutte le ambulanze che da tutta Bologna si stanno riversando lì ma non bastano e loro decidono di lasciarle ai feriti e i morti però non si possono lasciare lì e quindi questo autobus 37 gli vengono tolti i corrimano per salire dalle porte per poter permettere alle barelle di salire. Vengono appesi dei lenzuoli a tutti i finestrini per garantire un po' di riservatezza e c'è questo autista Melloni che fa avanti e indietro dalla stazione alle 10.25, è successo fino alle 3 del mattino continuamente, continuamente dalla stazione alle camere mortuari a portare cadaveri, a portare morti ed è incredibile quello che lui racconta. Lui dice Bologna a un certo punto sembrava che mi accompagnasse e se non ci fosse stata tutta questa gente io probabilmente non sarei riuscito a fare quello che ho fatto per tutto il giorno e per tutta la notte. E così lo dice, lo raccontiamo nella puntata, lo dice alla storica Cinzia Venturoli autrice del libro Storia di una bomba che consiglio molto per il racconto, per la ricostruzione che fa di questa strage. Lui dice si era creata una reazione corale che abbracciava tutta Bologna e torna un po' anche una cosa che ci ha detto Carlo Lucarelli, in questi fai d'Italia abbiamo avuto la fortuna di poter avere testimoni eccezionali, non ne cito alcuni perché sennò faccio un torto agli altri, ma insomma abbiamo avuto protagonisti, testimoni, osservatori di primissimo livello in tutte le puntate e chi l'ha ascoltato lo può confermare. Ma forse nessuno come Carlo Lucarelli ha portato nella puntata quel mix di ovviamente enorme conoscenza dei fatti ma anche di partecipazione emotiva, di partecipazione diretta. Lui che peraltro non era a Bologna quel giorno, ce l'ha raccontato, ma ci ha detto una cosa molto bella, lui ci ha detto che tutta Bologna si è riversata in quella piazza come diceva Lollo poco fa e poi ci ha detto che per un bel po' di tempo Bologna poteva dire questa è la nostra identità, noi siamo quella cosa lì, siamo quella gente che va a scavare. E questa la Bologna del 2 agosto 1980 e in questa città travolta dal terrore si riversano ovviamente anche i vertici dello Stato, il Presidente Cossiga, il Presidente del Consiglio, il Ministro dell'Interno Rognoni, arriva nel pomeriggio quindi qualche ora dopo l'esplosione anche il Presidente della Repubblica Sandro Pertini che era in vacanza in Val Gardena 2 agosto, quindi eravamo nel pieno delle vacanze estive e Pertini anche questo estratto nella puntata esprime parole che sono poi le parole di tutto il paese in quel momento. Non ci sono parole che possono esprimere lo Stato d'Ammunio, voi lo immaginate, ho visto adesso dei bambini laggiù nella sala di rialimazione, due stanno morendo, ma una bambina bambina la colla sta l'azionato. Si è capito a quel punto che esplosa un pezzo della stazione ma non che cosa è successo, no? No, infatti subito come in altri casi della storia italiana si è detto che era una caldaia e infatti i primi giornali, la stampa sera dà conto di questa versione dei fatti e esplosa una caldaia. Vedi scusami qua si legge disgrazia o attentato, quindi c'era ancora un margine di incertezza. Il problema è che mentre i giornalisti parlano e danno conto di questa versione c'è un ferroviere ai binari che dice guardate che qui una caldaia non c'è, non c'è una caldaia, non può essere una caldaia. Poco prima di mezzanotte, provate a immaginare il tempo, 10.25, tutto quello che è successo avete visto le macerie, poco prima di mezzanotte viene trovato il cratere della bomba. È profondo 30 centimetri e largo un metro e mezzo, mi pare di ricordare. Ed è questo, è quello che oggi se vi capita di passare a Bologna, ancora oggi c'è un bel ricordo, è stato fatto un bellissimo intervento anche di ricordo di quel momento lì. C'è, per ricordarlo a chi magari è passato di recente, entrando da Piazza Medaglia d'Oro sulla sinistra c'è tuttora la sala d'attesa, era la sala d'attesa di seconda classe, quella in cui fu collocata la bomba e proprio dove è stata posizionata la bomba c'è uno squarcio nel muro e un vetro che permette dai binari di vedere la sala d'aspetto e viceversa, ed è esattamente lì. Qui non vedete il muro, infatti sembra un altro posto, non vedete il muro perché il muro era completamente sparito, era stato disintegrato e addirittura, lo ricordavamo prima, i detriti avevano colpito il treno sul binario 1 e molte persone che erano in prossimità del treno. Quindi è una bomba, 23 kg di tritolo più n altre sostanze di cui non vi do conto questa sera, ma è una bomba e qui siamo al 4 di agosto e come potete vedere le indagini subito si indirizzano verso una matrice, verso dei possibili colpevoli e tenete però presente che è vero che le indagini si sono subito concentrate sulle versioni nera, adesso Lorenzo vi racconterà anche il motivo per il quale c'è questa concentrazione, ma non semplifichiamo, non sono state indagini semplici, non sono state indagini che hanno subito capito chi fosse stato. Ecco, diciamo che sì è vero, si è subito capito che le versioni nera aveva messo quella bomba, ma nei processi di cui vi racconteremo, e questo di nuovo ce lo racconta Lucarelli, è passata tutta l'eversione nera italiana, chi non c'entrava niente e sicuramente chi c'entrava con quella bomba alla stazione del 2 agosto. Sì, il Corriere dà conto già di questa lettura, quasi certo nera, quindi ci dice che è una bomba e ci dice che è di matrice neofascista, la stampa va oltre, dice erano 10 kg di tritolo, in realtà poi erano 23, ci dice erano in una valigia abbandonata da due giovani, ci danno i giornali già qualche elemento. E i sospetti, l'abbiamo detto, si concentrano subito sulle versioni di destra, ne parleremo dopo meglio, ma è evidente che il grande motivo di sospetto qual era? La tipologia dell'attentato, non era un attentato mirato contro una persona o contro alcune persone come tipico del terrorismo rosso, era un attentato di tipo stragista, cioè c'era una bomba che aveva l'obiettivo di fare più danni possibile e di gettare nel terrore la cittadinanza, questo era un tipico modus operandi dell'estremismo neofascista, tant'è che a molti ricordava quello che era accaduto 11 anni prima, 1969, la strage di Piazza Fontana, il primo grande tragico momento della strategia della tensione e degli anni di piombo italiani. Peraltro, come spesso in quegli anni, anche qui dobbiamo calarci in quel momento, arrivano rivendicazioni di ogni sorta, ci sono rivendicazioni che dicono siamo stati noi delle brigate rosse, smentite, ci sono rivendicazioni che dicono no, siamo stati noi dell'estrema destra, sconfessate anche quelle. E però, in un certo senso, tra queste rivendicazioni ce ne sono alcune che chiamano in causa una sigla in particolare delle versioni neofascista, di cui parleremo molto questa sera, che è la sigla dei NAR, cioè i nuclei armati rivoluzionari. E dobbiamo in un certo senso, no, Lollo, partire da qui e partire da che cos'era l'Italia nel 1980 per provare a ricostruire quello che è successo. L'Italia del 1980 è un paese ancora sospeso tra le grandi passioni dei decenni precedenti e quell'apparente leggerezza che caratterizzerà il decennio appena iniziato. Al cinema esce Un sacco bello di Carlo Verdone, in tv nasce Mixer di Giovanni Minoli e l'album più venduto dell'anno è quello del cantautore più bolognese di tutti, Lucio Dalla. Dentro ci sono Futura e la Sera dei Miracoli. Sta cambiando anche la politica. Alle elezioni del 79, per la prima volta nella storia repubblicana, il Partito Comunista perde voti ed entra in una crisi da cui non uscirà più. È cambiato e molto lo scenario rispetto ad anni prima. Con la morte di Moro sono venute meno le condizioni per il compromesso storico. La possibilità che comunisti vadano al governo sembra tramontare. Ma si muove qualcosa anche nel mondo delle versioni di destra. Il terrorismo vecchio stampo di ordine nuovo, quello al centro delle indagini su Piazza Fontana, sembra aver lasciato il passo a una nuova generazione. Meno ideologica, più istintiva, pronta allo scontro frontale con l'estrema sinistra e anche con le forze dell'ordine. Sono i NAR, Nuclei Armati Rivoluzionari. È la stagione violenta e criminale dello spontaneismo armato. Non hanno forse un vero progetto politico. Sono un movimento clandestino animato innanzitutto dalla sete di vendetta contro il sistema, dalla voglia di ribellarsi all'emarginazione. La loro è una testimonianza esistenziale, brutale, fatta di furia, rapine e uccisioni. E chi c'è dietro a questo momento, a questa fase dell'estremismo di destra? Qui vediamo tra l'altro un po' una effigie. Non semplicissima da trovare, non è così diffusa. Anche l'iconografia dei NAR non è così diffusa come potrebbe essere quella delle Brigate Rosse, ad esempio. Però ci sono alcune figure chiave, in particolare una figura chiave. Senza dubbio, senza dubbio. Quello che impressiona di questa storia è che sono tutte figure che quando i NAR nascono nel 77 hanno tutte meno di 20 anni. Sono i due fratelli Fioravanti, sono Giuseppe Valerio, detto Giusva Fioravanti e Cristiano Fioravanti, Francesca Mambro, Francesca Mambro diventerà poi compagna e moglie di Giusva Fioravanti e poi c'è Alessandro Alibrandi, un nome che vi consiglio di ricordarvi perché tornerà in maniera laterale ma tornerà anche più tardi. Ma giustamente sono Giusva Fioravanti e poi Francesca Mambro, ma è sicuramente Giusva il personaggio più in vista. Lo vediamo in diverse fasi della sua vita, anche perché è stato tante cose nella sua vita. È un personaggio molto particolare. Classe 1958, il papà lavorava in Rai e lo inserisce nel mondo dello spettacolo. Quando è bambino recita in alcuni caroselli pubblicitari, poi passa al cinema, ancora da bambino recita in un film inglese che tra l'altro vincerà addirittura degli Oscar, dei premi Oscar. Tre Oscar. E poi in televisione, in televisione per la famiglia Benvenuti, dove interpreta un bambino. Qua lo vediamo nei caroselli. Nesquick, abbastanza impressionante. È molto impressionante, soprattutto l'immagine successiva. Lui partecipa, lui è uno dei protagonisti di fotoromanzi, questa sorta di fumetti, a metà tra fumetti e film, serie tv che veniva diffusa. Nel 70 questo. Lui ha 12 anni nell'immagine che stiamo per vedere. Ed è protagonista di un fotoromanzo con Albano Carrisi. Che vedete qui. Bravo Al, sei un fenomeno. E in questo episodio tra l'altro c'è Albano Carrisi che sgomina dei criminali. E Giusva Fioravanti fa il tifo per Albano e dice bravo Albano, sei fortissimo. E tra l'altro il piccolo Giusva che vediamo qui disarma anche un malvivente. Esatto. In questo episodio. Sventa una rapina. È ironico, no? Abbastanza ironico per quello che succederà. Da ultimo partecipa ad uno di quei film, di quel filone erotico italiano con Edwidge Fennec. Quindi è uno dei protagonisti, anzi è il protagonista di uno di questi film. Poi la famiglia lo manda in America. Lo manda in America e quando lui torna nel 75 si avvicina agli ambienti dell'estrema destra. Lo fa perché il fratello, mentre lui era in America, aveva cominciato ad avvicinarsi a questi ambienti. Ed è emblematica questa frase che lui dice perché spiega poi tante cose di quello che racconteremo tra poco di chi sono i NAR. Lui dice si avvicina al mondo dell'estrema destra più per istinto che ideologia. E tra l'altro dobbiamo anche dire una cosa, cioè colui che abbiamo visto qualche istante fa come bambino prodigio di fatto dello spettacolo italiano di quegli anni, diventa in poco tempo, diciamo intorno alla metà degli anni 70, diventa prima un militante dell'estrema destra e poi diventa un terrorista spietato, spietatissimo. È una figura complessa che indubbiamente esercitava un carisma, per quanto ovviamente perverso. Senza dubbio. Ed è impressionante. Tra poco vedrete, vedremo insieme dei video. Noi abbiamo messo solo gli estratti audio. E già dalla voce nella puntata lo potete percepire quanto è mellifluo, quanto è in qualche modo suadente. Ma la cosa che a me personalmente fa impressione è questa totale dicotomia che c'è tra la sua immagine, che è quasi angelica, e la sua malvagità estrema trasmessa da quello che racconta. Vogliamo vedere questo? Qui diciamo siamo nell'ambito delle deposizioni, sono tantissimi video ovviamente legati ai vari processi che ci sono stati. C'era una strategia ufficiale, che era quella del mondo sociale, che era di reagire diciamo abbastanza passivamente, cioè di prendere le botte, restituirne una piccola parte ma senza mai esagerare. La piccola caratteristica del nostro gruppo d'Italia, da un'età giovanissima e da le tante botte prese, è perché noi non volevamo soltanto restituirle ma restituirle di più. Era diciamo un'aggressività in più rispetto ai temi normali. Siamo arrivati nel corso degli anni con una crescita graduale, dalla scacciottata, dalla bastonata, dalla bastonata, dalla voltellata, dalla pistolettata, dalla cartiglia di vitre, siamo arrivati alla cosiddetta lotta romana. Qui tra l'altro si intravede un pezzo di Blu Notte, con Carlo Lucarelli che consigliamo di riscoprire. Sì, fondamentale. Anche sulla stragi di Bologna. Lui dice tutto con questa tranquillità estrema, no? Dice il movimento sociale, diceva, un po' bisogna anche prenderle, no? Le botte poi limite le puoi restituire. E invece noi, dice Giuseppe Fioravanti, noi dello spontanismo armato, di quelli che poi saranno i NAR, teorizziamo questo concetto. Se ce le danno, noi dobbiamo restituirlene di più. E prima devono essere botte, poi saranno coltellate, poi saranno pistolettate, poi saranno raffiche di mitra. E lui descrive con pacatezza quasi la traiettoria del percorso criminale dell'estrema destra di quegli anni. Sì, è quasi un programma politico quello che lui ha detto in quest'aula di tribunale, che è quello dei NAR. Tornando indietro, negli anni possiamo andare a ripescare un po', no? Il motivo e come sono arrivati i NAR a questo punto. Ci sono un paio di episodi. Il primo è l'incendio, il rogo di Prima Valle. L'episodio è abbastanza conosciuto. Tra l'altro ne ricorreva l'anniversario proprio pochi giorni fa, il 16 di aprile. E cinquantesimo anniversario. E cinquantesimo anniversario. Perché questa cosa che stiamo per raccontare accade nella notte, comunque il 16 aprile del 1973. Quindi prima che nascano i NAR, ok? E accade un episodio folle, no? Totalmente insensato con gli occhi di oggi e persino con quelli di allora, anni, ricordiamolo, di grande conflitto politico. Quello che accade è che alcuni militanti di un'organizzazione di estrema sinistra, che si chiamava Potere Operaio, un'organizzazione, diciamo, di stampo comunista, che ovviamente non aveva nulla a che fare col partito comunista, precisiamolo, ma che stava nell'ambito della lotta armata, di fatto, a sinistra, fa una cosa un po' strana. Cioè vuole, si dice, dare un segnale dimostrativo contro alcuni militanti di destra di Roma. E allora versa una tannica di benzina sulla porta di casa di un signore che in realtà non era un chissà quale alto dirigente. Era un rappresentante della sezione proprio di prima valle dell'USI. Era un, insomma, il responsabile, tre responsabili di una sezione locale del movimento sociale, no? Il movimento sociale italiano, che era il partito, come sappiamo, dell'estrema destra. Sono le tre di notte, questa organizzazione, essa parlamentare, che appunto abbiamo ricordato poco fa, Potere Operaio, aveva militanti molto diversi tra loro, e ci sono questi tre che con l'idea, diranno, di dare un segnale, fanno questa cosa, la tannica di benzina sul portone. Il problema è che poi, come succede, credo piuttosto spesso, se versi una tannica di benzina sulla porta di casa di qualcuno, scoppia un incendio. Scoppia un incendio, l'appartamento di prima valle viene avvolto dalle fiamme e muoiono due figli di questo signore, questo signore si chiamava Mario Mattei, era un ex netturbino e abitava lì con la famiglia. Virgilio, 22 anni, e Stefano, fratello di Virgilio, di 8 anni, quindi un ragazzo e un bambino, muoiono di fatto bruciati in questa pagina terribile e folle di violenza politica, restano intrappolati tra le fiamme e, tra l'altro, c'è questo elemento che spesso viene ricordato quando si parla del rogo di prima valle, cioè vengono ritrovati di fatto carbonizzati i loro corpi, abbracciati e fuori dalla casa, tra l'altro, i responsabili di questa strage lasciano anche un foglio con scritto, giusto per precisare quale era il loro intento. Morte ai fascisti, la sede dell'MSI, cioè la casa di questo povero signore, colpita dalla giustizia proletaria. E la cosa ancora più strana, che ha colpito molto, che è stata molto sofferta, soprattutto ovviamente dal mondo della destra italiana, è che i responsabili, questi tre estremisti rossi di potere operaio, verranno condannati ma, tra una cosa e l'altra, non passeranno un solo giorno di carcere. Dopo aver ucciso, o meglio, provocato la morte, la condanna per omicidio colposo, due persone. E qui, tra l'altro, no, vediamo un servizio dell'epoca. Servizio, indovinate di chi? ...di sicurezza Antonio Marino, ucciso da una bomba fascista, si deve purtroppo registrare un altro gravissimo episodio di violenza. Stanotte, a Prima Valle, alla periferia di Roma, un bambino di otto anni, Stefano Mattei, e suo fratello Virgilio, di ventidue anni, sono morti nell'incendio della loro casa. Un incendio doloso. Stefano e Virgilio sono i figli di Mario Mattei, segretario di una sezione del Movimento Sociale. E vediamo insieme il servizio di Bruno Vespa sull'assurdo episodio di Prima Valle. L'attentato si è venuto alle tre e venti. Mario Mattei, ricoverato in ospedale per questioni gravissime, ha riuscito a pronunciare poche parole. Sono stato svegliato da un grande boato e ho visto alla casa in una sezione del Movimento Sociale. Bruno Vespa, sempre testimone di quasi tutti i fatti che raccontiamo. Dobbiamo timbrarlo il cartellino Bruno Vespa ad ogni puntata di Qui si fa l'Italia. Prima di introdurre l'altro episodio su cui Inar e il mondo dell'estremismo di destra extraparlamentare fonda, diciamo così, la sua violenza e la sua lotta armata, è importante solo sottolineare un concetto. Gli anni di incredibile violenza che si vivevano in Italia in quegli anni è il fatto che noi qui stiamo raccontando questa sera un episodio del 1980. E' molto interessante quello che è venuto fuori anche con Carlo Luccarelli. Lui dice, si tende a dividere per anni, no? Sessanta siamo così, nei settanta siamo così, negli ottanta siamo così. Però in realtà gli strascichi e quello che poi deriva da questa strage di Bologna porta ancora degli incredibili momenti di violenza nell'Italia. ed è curioso che l'espressione anni di piombo viene proprio coniata di fatto negli anni Ottanta e in quegli anni nessuno pensava di essere negli anni di piombo. La seconda, diciamo così, il secondo evento è a cinque anni di distanza da Accalarenzia, scusatemi, da Prima Valle ed è nella sede dell'MSI di Accalarenzia. Succede che ci sono due ragazzi iscritti all'MSI, al Movimento Sociale Italiano, che escono dalla sezione di Accalarenzia per andare a fare un volantinaggio e vengono uccisi da una sventagliata di una mitraglietta Scorpion. Nella colluttazione che segue questa sparatoria i carabinieri e i neofascisti dell'MSI cominciano a spararsi uno con l'altro e un carabiniere uccide un altro ragazzo dell'MSI. E questo è un punto di svolta per Inar, è un punto di svolta soprattutto per Francesca Mambro, che abbiamo citato prima, sarà poi la compagna, la moglie di Giuswa Fioravanti, e si trovava lì al momento della morte del militante Stefano Orecchioni ucciso dai carabinieri. E' interessante perché questa continua, esasperata, costante violenza in realtà contiene un elemento al quale possiamo dedicare qualche parola, cioè il rapporto con le forze dell'ordine. E qui si vedono sostanzialmente due linee molto diverse, no? Cioè c'è una linea che è quella del Movimento Sociale, qui vediamo Giorgio Almirante, che era il leader del Movimento Sociale per l'appunto, che è una linea che comunque veniva vista dagli estremisti come Fioravanti e il suo gruppo come troppo istituzionale, troppo morbida con le forze dell'ordine. Al contrario, i NAR si caratterizzano per una brutalità che colpisce anche le forze dell'ordine e molte delle vittime della violenza dei NAR saranno agenti di polizia, carabinieri. Quindi c'è sostanzialmente un rifiuto di quella linea di destra, indubbiamente rappresentata dalla destra politica in quel momento, che aveva però i caratteri di una linea, diciamo così, istituzionale e che non propagava e propagandava, per meglio dire, l'idea della violenza contro le forze dell'ordine. Dopo Calarenze però succede qualcosa, ed è importante quello che succede, perché ci fa capire chi è davvero Giosva Fioravanti. Due settimane dopo a Calarenze a un gruppo di neofascisti che si ritrovavano al Bar del Fungo arriva la voce che i responsabili della morte dei due giovani missini sono comunisti extraparlamentari di un centro sociale di Roma Sud. Valerio e Cristiano Fioravanti, insieme ad altri sei, vogliono vendicarsi. Loro avevano ucciso due nostri camerati, noi avremmo fatto altrettanto, ricorda proprio Giosva. Quando il commando arriva al centro sociale, però, scopre che è stato sgomberato dalla polizia. I neri, allora, girano per il quartiere, perché la vendetta non si può fermare. Arrivano in piazza Don Bosco, vedono un gruppo di ragazzi seduti su una panchina. Indossano l'eschimo, quindi devono essere dei rossi. I neofascisti iniziano a sparare. Giosva si avvicina a uno dei feriti, lo tiene tra le gambe e gli spara due colpi in testa. Nel suo volto, è durata un secondo, perché poi subito dopo dovevo tirare il grilletto, c'era il rischio che anche lui fosse armato. Ero lì per compiere qualcosa contro un gruppo che usava le armi. E in quel secondo ho visto la sorpresa. Non ho visto, io non è effettivo, se uno fosse venuto davanti a me a sparare, non avrebbe visto la sorpresa. Perché noi che facciamo, che siamo in questa attività, abbiamo una reazione diversa. Se uno ti minaccia, hai una risposta, hai uno sguardo forse d'odio, hai uno sguardo all'inde di paura, hai uno sguardo di pentadino di reazione. Uno invece ha quell'attimo di sorpresa. Lì in quel momento ho capito che questo era uno che sicuramente era un compagno, che sicuramente poi ti è rimasta l'impressione che non c'entrasse niente. E' un ragazzo di 23 anni, si chiama Roberto Scialabba. Muore così, con la sola colpa di essere di sinistra. Nel 1980 per Inar c'è un cambio di passo. Ammazzano il poliziotto Maurizio Arnesano, che sta vigilando davanti all'ambasciata del Libano per impadronirsi del suo mitra. Uccidono l'appuntato di polizia, Francesco Evangelisti. E poi c'è un magistrato, il sostituto procuratore Mario Amato, che è titolare delle inchieste sul terrorismo nero nel Lazio. Amato ha ereditato i fascicoli del collega Vittorio Corsio, assassinato nel 1976 da Pierluigi Concutelli, terrorista di Ordine Nuovo. Il giudice Amato cerca una visione d'assieme, che va dal di là dei singoli episodi criminali. Ricostruisce i legami tra l'eversione fascista e la banda della Magliana. Segue i fili che legano i neofascisti armati ad altri mondi. Forse è anche su piste che potrebbero aiutare a sventare la strage di Bologna. In procura però il giudice Mario Amato è isolato, lo hanno lasciato solo. Tra i colleghi ce n'è uno che lo steggia più di altri. E' il collega magistrato Antonio Librandi, padre di Alessandro Librandi, uno dei terroristi del NAR, fedelissimo di Giusua Fioravanti. Il mattino del 23 giugno 1980, un mese prima della strage di Bologna, il sostituto procuratore Mario Amato è alla fermata dell'autobus di Viale Ionio. Sono le otto, la macchina di servizio non è ancora disponibile. Lui però vuole arrivare in procura la mattina presto. Gilberto Cavallini, un uomo dei NAR, gli si avvicina alle spalle e gli spara alla nuca. Ho visto il soffio della morte, dirà Cavallini rievocando la vampata dello sparo. I Fioravanti e Mambro festeggeranno con ostriche e champagne. E non è un'immagine figurativa, l'episodio è letterale. Insomma, siamo in presenza di un mondo, cioè quello dei NAR, dello spontaneismo armato di destra, violentissimo, brutale, che ha seminato morti soprattutto nell'area del Lazio e di Roma, colpendo anche forze dell'ordine, magistrati. E però dobbiamo poi chiederci a un certo punto come entra la loro storia nella storia della strage di Bologna. Siamo partiti da quella bomba alle 10.25 del 2 agosto del 1980. E poi però abbiamo dovuto spiegarvi, raccontarvi questa pagina delle versioni nera perché di fatto ci aiuta a capire che cosa è successo o un pezzo di quello che è successo proprio a Bologna. Dicevamo poco fa che l'idea sostanzialmente condivisa era che fosse un attentato di destra, di matrice fascista. Però da lì a capire effettivamente chi potessero essere i responsabili il percorso non era affatto semplice. Sì, tenete presente che il 26 di agosto del 1980, quindi 24 giorni dopo, non è passato neanche un mese dalla strage, la procura di Bologna emette 28 mandati di cattura. E sono tutti per membri delle versioni nera, per lo spontanismo armato di destra. Tra questi mandati di cattura c'è anche quello a Francesca Mambro. Vengono però tutti rilasciati. È incredibile come vengono poi catturati Fioravanti e Mambro, tutti per altre cose. Fioravanti verrà catturato a febbraio dell'81, mentre sta recuperando delle armi da un canale di scolo nel Veneto. Conflitto armato con i carabinieri, lo feriscono, riescono a seguire la scia di sangue e lo trovano da solo in un appartamento. La Mambro invece la catturano nell'82. Dopo una rapina andata male, i camerati la lasciano davanti al pronto soccorso e se ne vanno. Diventano loro, no? Diventano loro perché c'è una serie di motivi per cui diventano loro. L'abbiamo detto, le indagini sono molto complesse. È logico che dobbiamo, a un certo punto, per amore della sintesi e per necessità di sintesi, anche raccontare un po' per capi quello che sta succedendo. Sono sostanzialmente una serie di punti, pochi ma... Quattro. Quattro. Quattro punti per cui le indagini si concentrano su di loro. Il primo ovviamente è forse il più immediato che ci può venire in mente se abbiamo guardato un po' di puntate di qualunque poliziesco. L'alibi. Non sta in piedi, si contraddicono, contraddicono se stessi. Prima dicono che erano al mare, poi dicono no, ma non ci siamo mai mossi da Treviso. Ma sì, forse ci siamo mossi. Quindi si contraddicono e il loro alibi non regge. Il secondo motivo per cui il cerchio si stringe attorno a loro è un po' contorto a livello anagrafico. Nel senso che ha a che fare con una persona che si chiama Luigi Ciavardini, anche lui membro dei NAR. Giovanissimo. Giovanissimo, come tutti i membri dei NAR. Questo Luigi Ciavardini chiama una sua amica che doveva essere, doveva venirlo a trovare a Roma, lei di Venezia, se non ricordo male, comunque doveva prendere un treno che la portava da nord a Roma e doveva partire proprio la mattina del 2 agosto. Lui la chiama il giorno prima. Tra Roma e Venezia dove si passa? A Bologna, proprio quella mattina lì, a quell'ora lei doveva essere a Bologna. Lui la chiama il primo di agosto e le dice senti, non partire, rimanda il viaggio per gravi motivi. Questa cosa colpisce gli inquirenti, dice ma il nome però di Luigi Ciavardini viene fuori perché? Perché Giusva Fioravanti, questo spavaldo è anche un po' spocchioso, anzi piuttosto spocchioso davanti alla corte, non è proprio sempre lucido. E comincia a dire che Luigi Cavallini non c'entrava niente, solo che Luigi e Ciavardini e Cavallini e Gilberto, quello che aveva ammazzato il magistrato, aveva visto il soffio della morte, l'abbiamo sentito prima, no? Quindi comincia anche in questo caso a fare un po' di pasticcio, ecco. Diciamo però che appunto il fatto che secondo le testimonianze di questa amica di Luigi Ciavardini ci sarebbe stata una telefonata il giorno prima in cui Ciavardini dice non partire, non metterti in viaggio domani, ecco questo è un fatto pesantemente indicativo secondo l'accusa, anche perché diciamo non presuppone direttamente che Ciavardini fosse implicato nell'organizzazione, però presuppone che fosse a conoscenza del fatto che il 2 agosto del 1980 poteva succedere qualcosa dalle parti di Bologna. E se Ciavardini sapeva questo evidentemente è perché gliel'avevano detto Mambro e Fioravanti, questa è la linea diciamo degli investigatori. C'è poi un terzo indizio che chiama in causa un'altra figura un po' strana, un signore pregiudicato, si chiama Massimo Sparti, il quale faceva il falsario ed era specializzato nella falsificazione di documenti d'identità e Massimo Sparti depone, insomma testimonia, e dice che sono andati da lui Fioravanti e Mambro, se non sbaglio anche lei sostiene che fosse lì, Fioravanti gli avrebbe detto subito dopo la strage, il 4 agosto del 1980, avrebbe detto al falsario Sparti hai visto che botto? E poi gli avrebbe detto che lui e Francesca Mambro erano a Bologna e forse, questa è la preoccupazione di Fioravanti, Francesca Mambro era stata vista dunque occorreva procurarle un documento falso. Ma perché solo lei era stata vista? Perché non lui? E qui si nasconde una dimensione molto umana di quello che succede dopo una strage simile. Mi è capitato di pensarci, non so se l'avete letto, l'ultimo libro di Carrerra sul processo agli attentati di Parigi, di venerdì 13. Qui lui dice lei è stata vista, io no perché io ero travestito da turista tedesco. E perché la dimensione umana? Perché c'è una testimonianza di una donna che non è mai entrata in nessun processo, ma è entrata in un libro questo qui di Bocca, tutta un'altra strage in cui questa donna racconta di essere stata, era lì in piazza delle medaglie d'oro a Bologna ed era pochi minuti prima delle 10.25 e si ricorda di un dettaglio due ragazzi vestiti con cappotti di lana con i pantaloni lunghi e faceva un caldo terribile giacca tirolese faceva un caldo terribile e lei si ricorda distintamente di aver pensato non sembrano neanche tedeschi questi due questa cosa lei non l'ha mai raccontata in nessun processo l'ha raccontata all'associazione famiglia delle vittime della stazione di Bologna ma non è mai voluta andare a raccontarle in un processo perché terrorizzata dalla paura di ritorsioni e forse anche per il senso di colpa di non averla mai raccontata questa cosa però possiamo dire che questa testimonianza per quanto non agli atti della testimone presente a Bologna il 2 agosto dell'80 collimerebbe con la testimonianza del falsario Sparti che dice agli inquirenti signori è venuto da me che era avanti ha detto che era a Bologna che era vestito da turista tedesco e mi ha chiesto di produrre dei documenti falsi per Francesca Mambro e non entriamo nel dettaglio nella famiglia di Sparti se non sbaglio il figlio dice no non eravamo a Roma quel giorno quindi è una testimonianza che è stata anche in parte messa in discussione ma come dire non dedichiamo troppo a questo dobbiamo giusto darvi il quadro che porta a identificare queste due persone cioè Giuseppe Fioravanti e Francesca Mambro e il loro giro dei narcome i responsabili di Bologna la strage di Bologna l'ultimo elemento che porta ed è forse il più forte non lo so diciamo dovendo dare una graduatoria è quello ancora più significativo l'ultimo tassello che porta induce a pensare che i responsabili della strage di Bologna siano loro ha a che fare con un militante di destra siciliano che si chiama Francesco Mangiameli detto Ciccio lui non era dei narra era di terza posizione comunque destra radicale di quegli anni e accade che Ciccio Mangiameli ha ospitato nel luglio dell'ottanta fino a pochi giorni prima la strage di Bologna ha ospitato a casa sua vicino a Mazzara del Vallo Valerio Fioravanti Francesca Mambro cosa stavano facendo al mare Fioravanti e Mambro ospiti di un altro militante di estrema destra pochi giorni prima della strage di Bologna stavano forse progettando qualche cosa quello che accade è che questo testimone scomodo Francesco Mangiameli fa una brutta fine e anche qui siamo quasi in un filone prevedibile da un certo punto di vista chissà in quante serie televisive si ripropone questo schema Mangiameli che forse sapeva qualcosa forse aveva sentito qualcosa aveva ospitato a lungo Mambro e Fioravanti poco prima della strage di Bologna viene convocato a Roma da Inar lo portano in una pineta vicino a Ostia lo fanno scendere dalla macchina arriva un'altra macchina con Fioravanti e Mambro e i fratelli Fioravanti lo ammazzano tra l'altro non solo lo ammazzano ma zavorrano il corpo e lo buttano in acqua con l'obiettivo di farlo ritrovare il più tardi possibile ecco la tesi degli inquirenti è che l'omicidio di Mangiameli non fosse per una questione di soldi o per qualche altra vicenda ma fosse l'evidente volontà di eliminare un testimone che poteva dire qualcosa sulla preparazione della strage di Bologna tra l'altro un comunicato dei NAR suonerà abbastanza eloquente e inquietante perché dirà i nemici si uccidono i traditori si annientano e questo richiamo ai traditori sembra sembra richiamare in causa appunto Mangiameli giudiziariamente insomma non entriamo troppo nei dettagli ma c'è una condanna c'è una condanna definitiva all'ergastolo di Giuseppe Fioravanti e di Francesca Mambro nel 95 quindi ci vuole un po' di tempo il processo inizia nell'87 nel 95 vengono condannati e poi ci sono come dire ci sono delle altre figure questo è interessante che però non stanno non stanno cercando la verità non stanno aiutando a scoprire quello che è accaduto a Bologna e quindi appunto quattro motivi l'alibi mancante la telefonata di Ciavardini all'amica la testimonianza del falsario Sparti l'assassinio di Ciccio Mangiameli il processo si chiude nel 95 con la condanna definitiva all'ergastolo di Valerio Fioravanti e di Francesca Mambro la verità giudiziaria è che sono stati loro gli esecutori materiali dell'attentato alla stazione di Bologna anche se loro che hanno confessato molti altri omicidi su Bologna continuano a dichiararsi innocenti non tutti cercano la verità però in questa storia c'è chi cerca di offuscarla sommergerla nasconderla ci sono uomini dei servizi segreti militari che lavorano per confondere le acque per accreditare la pista internazionale il 13 gennaio 81 5 mesi dopo la strage viene rinvenuta una valigia piena di esplosivo sul treno Taranto Milano insieme ad armi e due biglietti aerei intestati a un francese e un tedesco dal sismi guidato dal generale piduista Santovito dicono che la conferma che in atto un'operazione terroristica internazionale terrore sui treni ma quella valigia quelle armi quei biglietti sono falsi sono stati caricati da un carabiniere istruito dal colonnello dei servizi Giuseppe Belmonte insieme a lui verranno condannati in via definitiva per calunnia aggravata di finalità di terrorismo il reato di depistaggio non esisteva ancora il generale del sismi Pietro Musumeci piduista autore di un dossier fasullo che cercava di alimentare la pista e il faccendiere Francesco Pazienza un misterioso collaboratore dei servizi che secondo più di una testimonianza sarebbe stato per un periodo una sorta di direttore ombra del servizio l'altro regista del depistaggio che trama per sviare le indagini e allontanare la verità è Licio Gelli il capo della P2 anche Licio Gelli viene condannato con sentenza definitiva e quindi vedete quanti livelli ci sono c'è il livello degli esecutori materiali c'è il livello di chi ha depistato ha occultato ha cercato di sviare le indagini sono condanne definitive è verità giudiziaria oltre che storica ci sono poi altri processi non entriamo nel dettaglio ma sono arrivati fino a questi giorni intanto Ciavardini l'abbiamo citato prima Luigi Ciavardini che all'epoca era minorenne quindi doveva essere giudicato dal tribunale dei minori lui nel 2007 quindi quasi 30 anni dopo la strage viene condannato in via definitiva a 30 anni per strage quindi si aggiunge anche il nome di Luigi Ciavardini a quello degli esecutori della strage un secondo processo è ancora in corso l'imputato è Gilberto Cavallini il terrorista dei NAR che ha ucciso il giudice Amato alla fermata dell'autobus lui era già stato condannato per banda armata quindi era riconosciuto come terrorista nero ma nel 2017 viene rinviato a giudizio anche per la strage di Bologna e nel 2020 è stato condannato all'ergastolo ma in primo grado e quindi diciamo innocente fino a sentenza definitiva e c'è ancora un terzo processo che è ancora in corso pensate che sono passati più di 40 anni 42 anni abbondanti e siamo e siamo ancora alle prese con con gli strascichi giudiziari di quel enorme fatto del 2 agosto 80 è in corso il processo che riguarda un'altra figura abbastanza da film Paolo Bellini Paolo Bellini criminale legato alle versioni di destra è stato è diventato un trafficante di opere d'arte poi così nel tempo libero è diventato anche un killer di indrangheta così per riempire un cursus honorum criminale lui inizialmente era stato prosciolto però quello che è accaduto è che è spuntato fuori un video è spuntato fuori un video amatoriale girato la mattina del 2 agosto dell'80 e in quel video sembra di vedere un uomo che gli assomiglia molto uno spezzone è questo e poi se non sbaglio c'è neanche un altro proprio sui binari che non so se abbiamo se abbiamo recuperato insomma in questo video in questo video quello che passava esatto quello che passava poi c'è un altro visto ancora da più vicino proprio sul binario in questo video si vede quest'uomo e questo signore è stato identificato nel processo anche dalla ex moglie che inizialmente gli aveva fornito un alibi e che invece ha detto no quell'uomo che vedo in questo video è effettivamente il mio ex marito Paolo Bellini nel giugno 22 quindi siamo a meno di un anno fa la corte d'assisi di Bologna ha condannato anche Paolo Bellini all'ergassolo per stragi in concorso quindi è per carità primo grado quindi anche lui innocente fino a condanna definitiva ma sarebbe se fosse confermata la condanna il quinto attentatore del 2 agosto 80 Fioravanti Mambro Ciavardini condannati in via definitiva Cavallini e Bellini invece condannati in primo grado non finisce qui la storia perché c'è poi il livello dei mandanti occulti di chi potrebbe aver finanziato questa strage di chi potrebbe averla voluta e non solo eseguita vi abbiamo già detto delle condanne a liciogelli e a figure vicine anzi interne ai servizi segreti per depistaggio ma il processo a Bellini quello che abbiamo citato poco fa ha portato alla luce nuovi elementi naturalmente non ci possono essere condanne per liciogelli e per le altre persone coinvolte perché sono tutti morti nel frattempo però la procura di Bologna considera Gelli tra i mandanti della strage quindi non soltanto qualcuno che avrebbe coperto l'attentato del 2 agosto 80 per difendere qualcuno ma liciogelli sarebbe secondo la procura di Bologna uno dei mandanti e dei finanziatori della strage avrebbe depistato le indagini perché sarebbe stato lui a pianificarla e ci sono alcuni elementi documentali c'è un foglio ritrovato a Castiglion Fibocchi chi di voi era presente alla puntata sulla P2 ricorderà quell'episodio un foglio in cui sono tracciati dei passaggi di denaro e c'è un anticipo che transita dalla Svizzera all'Italia tra il 20 e il 30 luglio del 1980 una coincidenza temporale interessante c'è un documento con cifre conti nome in codice dei destinatari rinvenuto nell'82 in Svizzera e l'intestazione di questo documento se non fosse tragico farebbe quasi sorridere è Bologna il che fa pensare che forse possa avere qualcosa a che fare e ci sono altre figure che la procura di Bologna non può perseguire ma dice che probabilmente erano coinvolte Federico Umberto D'Amato funzionario del Ministero all'Interno e inventore delle guide gastronomiche dell'Espresso quindi figura piuttosto versatile Umberto Ortolani che era un po' il capo la mente finanziaria della P2 insomma non si possono più processare evidentemente anche questi nomi ma forse no Lollo si può continuare a lavorare per ricostruire la verità storica di queste aree che sono rimaste fin qui nell'ombra è necessario e lo si deve alle vittime lo si deve alle famiglie delle vittime in chiusura e credo sia interessante sottolineare due cose che ci ha detto di nuovo Carlo Lucarelli e che non sono entrate in puntata l'avrete capito è stata un incontro un'intervista a cui siamo affezionatissimi quella con Carlo Lucarelli e li discutevamo potessimo far uscire tutto quello che abbiamo registrato ci sarebbe una puntata praticamente solo Lucarelli che racconta la sua Bologna e la sua strage di Bologna e sarebbe emozionante ed interessantissima allo stesso tempo lui dice due cose la prima è che l'Italia in quel momento stava cambiando e se non vuoi far cambiare qualcosa metti una bomba e sei sicuro che quel cambiamento lo stoppi lui dice questa frase che è molto bella l'altra cosa è quando parla di complottismi trame voi sapete dietro Bologna ci sono quando si dice stazione di Bologna c'è sempre questo campanello d'allarme del complottismo lui dice innanzitutto bisogna fuggire dal complottismo ed è ovvio però a volte il complottismo c'è anche stato insegnato siamo forse complottisti anche perché è così è sempre una caldaia la prima risposta a Piazza Fontana è stata una caldaia a Bologna era una caldaia forse lui dice non dobbiamo proprio accontentarci della prima risposta e continuare ad andare a scavare certo è che rifiuto la tesi del vecchio del vecchio del vecchio che pilota e guida tutte le trame oscure di tutte le cose che sono successe in Italia è molto forse più semplice ed è molto più terribile cointeressenze cioè ho degli interessi che quell'indagine non vada troppo avanti ho degli interessi che quell'indagine sia un po' rallentata e questo che ci ha raccontato Lorenzo adesso ne è il caso lampante il depistaggio non c'era ancora il reato di depistaggio però il depistaggio è qualcosa ci racconta lui che noi usiamo con molta leggerezza ma nasconde qualcosa di terribile di gigantesco dietro questa parola così semplice perché in una logica tra guardi e ladri è giusto ed è normale che i ladri cerchino di occultare quello che hanno fatto e cerchino di ingannare le guardie ma quando sono le guardie a occultare e a nascondere lì si parla di depistaggio e se si parla di P2 si parla di pezzi dello Stato indubbiamente dentro questa cosa come abbiamo visto perché effettivamente ci sono nomi che la giustizia italiana ha riconosciuto responsabili di un tentativo molto grave cioè quello di occultare le responsabilità e di rallentare le indagini di una strage che appunto 42 anni fa quasi 43 tra un po' ha colpito ha ucciso così tante persone i nomi li vedete qui i nomi li vedete li vedete a Bologna appunto in stazione in quel luogo che abbiamo detto all'inizio è un luogo che appartiene un po' a tutti perché ci siamo forse passati tutti prima o poi quella di Bologna è una strage orrenda per come ha colpito per chi ha colpito e perché è una strage di tutti la strage alla stazione di Bologna quel 2 agosto del 1980 è diversa da tutte le altre è una strage individuale e collettiva che riguarda i singoli e tutti noi insieme 85 vite squarciate alle 10.25 di quel mattino la morte in un luogo di vita un momento in cui il cambiamento sembra fermarsi storie che non finiscono pagine che non si scrivono una ferita ancora aperta un momento che è difficile anche da raccontare e che è impossibile dimenticare sull'espresso del 2 agosto 2020 40 anni dopo una vita dopo l'illustratore Mauro Biani ha disegnato una vignetta c'è l'orologio della stazione di Bologna spaccato dall'esplosione quell'orologio fermo dall'ora alle 10.25 se ci fate caso la prossima volta che passate da lì lo trovate in alto a sinistra nel portico la vignetta nella vignetta c'è quell'orologio che racconta di un tempo interrotto c'è una bambina che dà la mano alla mamma e le chiede a che serve un orologio rotto e la mamma le risponde non è rotto aspetta e ricorda grazie grazie della pazienza dell'attenzione dell'affetto con cui avete seguito questi diversi appuntamenti di cui si fa l'Italia sono stati quattro questa stagione al Circo dei Lettori Mattei Tinan Selmi e Lapidue Aldo Moro e la strage di Bologna quattro episodi diciamo molto molto diversi ma anche connessi come abbiamo visto che raccontano momenti molto importanti nella nostra storia e diciamo che l'idea all'ilà di ciò che molti di voi magari hanno ascoltato nel podcast è provare ad avere occasioni come queste per ricordarle e per raccontare che cosa ci ha reso il paese che poi siamo oggi nel bene e nel male grazie a tutti voi che siete venuti chi è venuto tutte le volte chi è venuto una chi è venuto qualcuna grazie al Circolo che ci ha ospitati questa stagione è stata inaspettata nell'affetto nei numeri e in quello che ci avete trasmesso nei momenti che abbiamo passato insieme dopo questi incontri prima è stato molto emozionante è stato stasera molto emozionante grazie a tutti per essere qua e grazie al Circolo per averci ospitato grazie grazie